Dora? Sono proprio un leone adesso. Ma dove sei? Guido, stacca la musica e vieni qui, parliamo un po'. Ma dove sei? Ma come, parliamo? Sì, parliamo. Prima ero pronta, ma adesso, vedi, mi sembra tutto così difficile. Ma non volevi bere? Bevi qualcosa? No, no, ho già bevuto. Comunque parliamo. Vedi, i cinesi dicono c'è un momento per pescare e un momento per asciugare le reti.